E se ti dicessi a Roma Nord-Ovest, un appartamento all'interno di un centro residenziale di recente costruzione nel cuore di Selva Candida Fiorita, disposto su due livelli, con entrata indipendente, al costo di 230.000 euro. Ci crederesti? Giorgia, mi raccomando, mentre io descrivo, tu disegna bene tutta la planimetria, così vi rendete conto bene degli spazi. Sono pronta! Dall'entrata indipendente attraversiamo un giardinetto che ci permette l'accesso alla zona giorno. Zona giorno ben organizzata, con un bel salone, una cucina abitabile, attenzione, una terrazza immensa, anche coperta. Sullo stesso livello, camera da letto, matrimoniale e bagno, pensate, con doccia e vasca idromassaggio. Giorgia, stai seguendo bene, sì? Sì, sì! Speriamo. E andiamo all'altro livello, camera da letto matrimoniale, un altro ambiente versatile e ancora un ampio bagno. Andiamo a vedere la planimetria. Vi abbiamo mostrato un appartamento su due livelli, con entrata indipendente, accesso dal giardino privato, di recente costruzione e con un posto auto. Tutto questo a 230.000 euro. Per maggiori informazioni, scriveteci in privato!